bene buongiorno a tutti benvenuti aspettiamo qualche minuto prima di iniziare in maniera tale che tutti i partecipanti possano entrare nella stanza io intanto spendo qualche parola di introduzione al corso in maniera tale di essere pronti per iniziare allora ben trovati noi avviamo oggi il primo webinar di un nuovo ciclo dedicato alla corretta applicazione delle linee guida open data che sapete essere in corso di approvazione grazie alla nuova direttiva 1024-2019 dell'Unione Europea che è stata convertita con deletto legislativo 200 dello scorso anno le linee guida sono in corso di approvazione sapete che manca soltanto un parere del garante privacy per essere completamente compliance con le indicazioni provenienti dal garante della normativa sulla privacy però abbiamo pensato di presentare di progettare un ciclo di webinar molto concentrato che si protrarrà da qui fino a fine febbraio proprio per illustrare molto concretamente molto operativamente i passi da eseguire per una corretta applicazione delle linee guida stesse oggi abbiamo con il primo webinar del ciclo presentiamo la fase di identificazione mappatura e analisi dei dati da rendere aperti in un successivo appuntamento il 31 parleremo dei dati che creano valore quindi degli high value data set tra l'altro novità ce ne parlerà Antonio successivamente è l'approvazione la pubblicazione del regolamento per appunto i dati di elevato valore vedremo anche se molto sinteticamente quali sono le indicazioni che provengono da questo regolamento il 7 febbraio ci occuperemo di modellazione e arricchimento dei dati il 14 degli aspetti molto importanti legati alla qualità e alla validazione per poi chiudere il ciclo con un webinar riguardante la pubblicazione e diciamo l'obiettivo vero di questa pratica di questo modello che è il riutilizzo dei dati per generare servizi a valore aggiunto per i cittadini e per gli utenti oggi avremo la presentazione di Antonio Rotundo che ci illustrerà in sintesi quali sono le tipologie dei dati da aprire e come procedere in questa direzione il collega Piero Paolicelli ci racconterà la creazione e quindi dei metadati, degli attributi dei dati da rendere aperti il collega Nicola Veglianti ci darà un quadro di riferimento del piano triennale relativamente al format al template che è stato adottato appunto nel piano triennale sul tema dati aperti e avremo poi successivamente un'esperienza anche in stati concreto l'esperienza del comune di Modena e il percorso che hanno attuato per l'apertura dei dati relativamente all'amministrazione se abbiamo tempo poi ci manterremo una decina di minuti, un quarto d'ora per le eventuali domande e risposte che già vi do come indicazione potete anche pubblicare nella chat e in tempo reale cercheremo di dare delle risposte proprio per guadagnare tempo e avere maggiore disponibilità per illustrare i vari interventi In ultimo fatemi ricordare l'avvio di questo nuovo mock anche appunto nella prima edizione sui dati aperti di cui potete trovare una scheda descrittiva molto dettagliata sul sito appunto Eventi.pa che prenderà avvio il prossimo 31 gennaio e che appunto vuole essere un corso di formazione online sulle caratteristiche, sulle definizioni principali e il quadro normativo di riferimento sul tema degli Open Data Io avrei concluso questa breve introduzione e ricordo a tutti che le presentazioni dei colleghi saranno poi disponibili nel primo pomeriggio appena possibile sulla pagina Eventi.pa dell'evento Invito i colleghi a cercare di mantenersi nei tempi che abbiamo previsto per i singoli interventi in maniera tale da avere appunto qualche minuto alla fine per affrontare delle principali domande che dovessero essere presentate nella chat da tutti quanti i nostri colleghi Chiedo ad Antonio di avviare la webcam e il microfono Eccolo qui Antonio a te la parola e illustrandoci appunto quali dati aprire come è un quadro un po' di riferimento generale di attuazione di queste nuove linee in guida Grazie a te la parola Grazie Ugo e buongiorno a tutti quindi riprendiamo diciamo un nuovo ciclo di webinar come si accennava per dare delle indicazioni con un taglio più operativo possibile e come sapete nel scorso anno proprio nel periodo in cui stavamo definendo e predisponendo le linee guida abbiamo svolto comunque e anche durante l'iter di adozione delle linee guida che si completerà nelle prossime settimane dopo il parere del garante come accennava anche questo Ugo abbiamo organizzato due cicli di webinar proprio per cominciare a fornire informazioni, contenuti ed elementi delle linee guida ho inserito una prima slide ma sarà l'unica slide in cui faremo citazioni di normative l'ho inserita proprio per coloro che eventualmente non avessero partecipato ai due cicli di webinar che citavo prima proprio per dare il contesto normativo poi nel corso del webinar e nei prossimi credo che i riferimenti normativi saranno veramente minimi giusto perché vorremmo rispettare il taglio che ci siamo imposti di dare a questi nuovi webinar quindi il riferimento normativo che noi abbiamo per tutte queste attività che stiamo raccontando è il decreto 36 del 2006 che è stato poi aggiornato a fine 2021 proprio nell'ambito del ricepimento della nuova direttiva o cosiddetta open data che è la 1024 del 2019 in questo decreto e in queste modifiche che sono state apportate dal decreto di ricepimento è sancito che Agil predisponga e adotti le linee guida proprio sulle regole tecniche che poi le amministrazioni e i soggetti destinatari devono implementare ovviamente nello stesso articolo poi viene anche indicato che le linee guida così come in generale tutte le linee guida adottate secondo l'articolo 71 del CAD sono vincolanti per tutti i soggetti destinatari e tutti gli utenti possono eventualmente in caso di non applicazione delle linee guida possono comunque fare segnalazione al difensore civico per il digitale così come se poi guardiamo all'articolo 50 del CAD che si riferisce alla disponibilità di dati tra pubbliche amministrazioni quindi condivisione di dati tra pubbliche amministrazioni e tra pubbliche amministrazioni private quindi utenti, stakeholders in generale la mancata applicazione delle regole relative alle disponibilità di dati che costituiscono un mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti della pubblica amministrazione quindi detto ciò come si diceva affronteremo in questi cinque webinar le fasi del processo di apertura dei dati che abbiamo suggerito nelle linee guida quindi partiremo da questa prima fase di identificazione e poi approfondiremo nei prossimi webinar le fasi successive e parlando di identificazione ovviamente un primo aspetto che bisogna tenere presente è quello della governance dei dati nelle linee guida non abbiamo proposto un modello organizzativo comune a tutte le pubbliche amministrazioni proprio in virtù dell'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti quello che abbiamo raccomandato però è quello di costituire un gruppo che si dedichi al processo di apertura dei dati e che quindi sia finalizzato anche all'implementazione e all'applicazione delle linee guida in questo un ruolo determinante ce l'ha il responsabile per la transizione digitale che come sapete è istituito dal CAD e proprio in virtù di una circolare del ministero della funzione pubblica di qualche anno fa il responsabile RTD può ed ha il potere di nominare di costituire questi gruppi chiamiamoli tematici quindi anche in questo caso l'RTD può costituire un gruppo dedicato al processo di apertura dei dati ovviamente in mancanza dell'RTD questa attività può essere svolta quindi questo potere può essere anche assolto dal livello amministrativo o politico dell'amministrazione di riferimento è chiaro che poi questo gruppo non deve lavorare in maniera isolata e quindi a sé stante ma deve raccordarsi certamente con l'RTD che poi è la figura di collegamento tra i livelli nazionali quindi il Dipartimento di Trasformazione Digitale, Agit e la singola amministrazione ma anche con tutte quelle figure che sono coinvolte nel processo di digitalizzazione dell'APA pensiamo al responsabile per la protezione dei dati personali responsabile della conservazione, responsabile della sicurezza così come in questo gruppo dovrebbero essere anche coinvolti i referenti delle varie unità organizzative che producono dati e in questo una citazione particolare proprio perché è stato definito a livello europeo è un framework di interoperabilità specifico per questa tipologia di dati anche con i referenti delle infrastrutture e dei dati territoriali pensiamo alle regioni ma anche a tutte le altre amministrazioni che comunque producono e rendono disponibili i dati territoriali quindi a una fase, a un aspetto organizzativo poi può seguire diciamo una ricognizione dei dati esistenti nell'ambito dell'amministrazione parliamo di dati nativi quindi quelli prodotti direttamente dall'amministrazione oppure dati mashup cioè dati che sono coinvolti in un processo di integrazione in questo caso l'aspetto più forse su cui prestare più attenzione sono proprio le politiche di accesso e di pubblicazione di questi dati proprio perché siccome provengono da fonti diversi possono essere applicate condizioni di utilizzo e anche licenze diverse quindi si deve valutare con tutta l'attenzione possibile l'eventuale pubblicazione però su questo quindi condizioni di uso, compatibilità tra licenze e quant'altro poi è un tema che affronteremo nell'ultimo webinar quando parleremo di pubblicazione a questa fase di ricognizione quindi dati, stiamo parlando di dati già disponibili nella pubblica amministrazione che quindi si devono identificare proprio per aprirli può seguire un'analisi che può essere un'analisi dei vincoli giuridici che adesso approfondiremo nelle prossime slide e sicuramente un'analisi della qualità dei dati proprio per verificare se c'è bisogno di fare delle azioni delle attività di bonifica per i dati prima di pubblicarli ovviamente poi tutto il processo di apertura dei dati e il valore che si crea anche nel processo di apertura dei dati dopo la pubblicazione non è solo l'utilizzo che è l'elemento più importante perché un dato sia aperto ma anche il fatto che dall'utilizzo poi di quel dato possono derivare segnalazioni anche sulla qualità dei dati da parte appunto dei riutilizzatori e segnalazioni che poi possono essere prese in considerazione dalle amministrazioni questo aspetto infatti evidenziato e tratteggiato lo affronteremo poi nel se non ricordo male nel penultimo webinar quando appunto il tema oggetto del webinar sarà appunto la qualità e la validazione dei dati e nel processo di identificazione quindi il processo di ricognizione ci dà contezza diciamo dei dati che sono disponibili nella pubblica amministrazione chiaramente possono essere poi applicate e anche questo lo approfondiremo fra poco delle priorità in modo tale da aprire da formulare diciamo delle priorità nell'apertura dei dati priorità che può essere anche definita in un percorso di apertura che nelle linee guida abbiamo suggerito di definire utilizzando eventualmente il format piano triennale che Agit ha messo in pieda definito proprio per supporto alle pubbliche amministrazioni per definire un proprio piano triennale e anche questo è uno dei compiti che viene assegnato nella circolare del ministro della funzione pubblica che citavo agli RTD proprio per questo nel webinar di oggi abbiamo chiesto al collega che si occupa ed è impegnato nel piano triennale che tra l'altro comunichiamo che è stato l'aggiornamento è stato pubblicato proprio ieri abbiamo chiesto di dare delle istruzioni le informazioni utili per l'utilizzo di questo format in modo tale che si definiscano percorsi di apertura che siano anche come struttura siano comunque simili e quindi possano essere anche eventualmente confrontati quindi abbiamo detto ricognizione dei dati allora quali dati aprire? il primo criterio da utilizzare per l'identificazione è certamente l'ambito di applicazione di direttiva e decreto di ricepimento e se poi vedrete anche le linee guida che comunque fanno riferimento alle disposizioni normative in linea generale tutti i dati pubblici i documenti che contengono dati pubblici rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e del decreto di ricepimento quindi in teoria tutti i dati pubblici dovrebbero essere aperti dati pubblici che sono detenuti da pubblica amministrazione e organismi di diritto pubblico e in questa nuova normativa in questo aggiornamento normativo per quanto riguarda gli open data sono stati aggiunti altri soggetti destinatari di queste disposizioni che sono le imprese pubbliche e private che o sono attive in specifici settori che poi trovate elencati nello specifico nelle linee guida ma anche imprese private a cui viene concesso l'esercizio di un servizio pubblico quindi tutte quelle imprese pubbliche e private a cui viene concesso dalla pubblica amministrazione di un servizio pubblico devono tutti i dati che vengono prodotti nell'ambito del servizio pubblico dovrebbero e devono essere pubblicati come dati aperti poi le norme indicano e esplicitano anche dati della ricerca questo perché nella normativa precedente non erano esplicitamente citati e i dati territoriali proprio in virtù di quello che dicevo prima perché per i dati territoriali c'è un framework sia normativo che tecnico specifico e molto ben consolidato quindi dicevamo in teoria sono tutti i dati che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme che abbiamo citato all'inizio però poi in questo processo di identificazione dobbiamo andare a verificare le esclusioni che sono anch'esse elencate nelle norme sicuramente ma esplicitate ancora meglio nelle linee guida quindi se per esempio un dato c'è una norma specifica che indica esplicitamente che quel dato non può essere pubblicato ovviamente non rientra nell'ambito di applicazione della normativa imprendata così come i dati che contengono dati personali non possono essere pubblicati come dati aperti a meno che in questo caso non si intervenga con tecniche di anonimizzazione quindi si forniscono dati aggregati e non i singoli dati grezzi che contengono dati personali così come dati che magari potrebbero impattare sulla sicurezza nazionale della sicurezza pubblica oppure nelle disponibilità di imprese pubbliche per attività che sono comunque esposte alla concorrenza in quel caso è chiaro che i dati prodotti non possono essere pubblicati e poi c'è comunque un elenco nelle linee guida che dà dettagliatamente tutte le esclusioni che devono essere applicate prima di identificare i dati che devono essere aperti quindi siamo partiti da un insieme molto vasto che sono tutti i dati pubblici adesso stiamo man mano limitando questo set di dati che devono essere resi pubblici per supportare questo processo di identificazione nelle linee guida trovate anche una checklist in cui si analizzano i vari aspetti quindi protezione dei dati personali proprietà intellettuali licenza di utilizzo temporizzazione e così via e vengono fornite attraverso delle domande tutti gli elementi per riuscire a identificare quali sono questi dati che dicevamo devono essere esclusi perché per via di norme o di altri vincoli giuridici non possono essere comunque resi disponibili come dati aperti qui in queste due slide ci sono degli esempi di questa checklist su questi diversi aspetti ora chiaramente non ci aspettiamo che dal giorno dopo che le linee guida saranno pubblicate che tutti i dati disponibili nelle pubbliche amministrazioni siano resi appunto disponibili e siano pubblicati come dati aperti anche perché questa è una possibilità che comunque le norme danno alla pubblica amministrazione se l'apertura diciamo implica delle difficoltà che però le normative evidenziano devono essere sproporzionate allora chiaramente l'amministrazione può eventualmente pubblicare successivamente quei dati ovviamente questa non deve essere una motivazione per non pubblicare i dati anche perché poi le motivazioni alla base di queste difficoltà sproporzionabili possono essere o economiche o tecniche quindi mancanze di risorse umane mancanze di risorse economiche e così via devono essere esplicitate con un provvedimento specifico in cui si indicano puntualmente quali sono le ragioni quindi le attività che dovrebbero essere effettuate al di là dice la norma della semplice manipolazione che imperiscono diciamo almeno attualmente di pubblicare i dati aperti a questo anche a seguito di eventuali richieste di riutilizzo quindi dicevo non ci aspettiamo che dal giorno dopo dell'adozione delle linee guida tutti i dati saranno pubblicati e proprio per questo abbiamo suggerito nelle linee guida alcune di definire come dicevo già all'inizio delle priorità e un percorso di apertura che può essere modulato proprio come come a livello nazionale si fa con il piano triennale AST quindi fare un piano triennale della singola amministrazione seguendo il format che tra poco il collega illustrerà e esplicitare quali dati e quanti e come saranno aperti nei tre anni di interesse del piano triennale oppure ovviamente è una raccomandazione si possono seguire anche altri strumenti di pianificazione proprio per definire questo piano di gestione dei dati i criteri che suggeriamo per e quindi le categorie di dati da aprire prioritariamente quindi prima di altre sono quelle che poi abbiamo illustrato diverse volte nei webinar nello scorso anno e quindi prima di tutto quelle tipologie di dati che la direttiva indica come dati che hanno un grosso potenziale in termini di benefici socio-economici sono i dati dinamici quindi i dati che vengono aggiornati frequentemente quindi o in tempo reale pensiamo ai dati del traffico oppure della mobilità oppure dati raccolti da sensori qualità dell'aria e così via i dati che vengono proprio denominati di elevato valore e proprio su questo come accennava Ugo proprio ieri e proprio qualche giorno fa è stato pubblicato il regolamento su questi dati di elevato valore che individua quali sono questi dataset che rientrano in questa in questa categoria quindi siccome quelli sono stati individuati e sono comuni in tutti gli stati membri c'è priorità e deve essere definita indicata una priorità per questi dati nel caso si voglia definire questo percorso che abbiamo detto prima poi sicuramente i dati che vengono richiesti dagli stakeholders proprio perché come dico sempre siamo certi che quei dati saranno sicuramente riutilizzati proprio perché richiesti da utenti che hanno interesse ad accedere a utilizzare quei dati e sulle richieste di riutilizzo nelle linee guida abbiamo definito una procedura precisa per cui nelle linee guida sono identificati gli uffici delle pubbliche amministrazioni a cui rivolgere queste richieste sono anche definite sempre sulla base delle norme sono definiti i tempi precisi per trattare queste richieste e per dare ovviamente una risposta a queste richieste che se positiva porta diciamo alla pubblicazione dei dati aperti che sono stati richiesti e poi ci sono categorie di dati per cui le norme alcune norme obbligano a pubblicare per esempio citiamo l'articolo 7 del decreto cosiddetto trasparenza che dice che tutti i dati che le norme obbligano a pubblicare devono essere resi disponibili coerentemente alla definizione di dato aperto quindi per riutilizzo per una licenza che contempli al massimo come condizione l'attribuzione così come l'articolo 54 del CAD che citavo già all'inizio che obbliga tutti i concessionari di servizi pubblici a pubblicare i dati prodotti nel servizio come dati aperti ovviamente abbiamo parlato finora di dati già disponibili già esistenti nella pubblica amministrazione e poi i nuovi dati sia le normative che le linee guida indicano di seguire il principio dell'apertura fin dalla progettazione quindi open by default in modo tale che già prima di produrre il dato sia chiaro quale formato utilizzare quale licenza quale sarà nella modalità di pubblicazione quindi quel dato sarà prodotto già sapendo che dovrà essere un dato aperto e su questo c'è proprio un paragrafo sulle linee guida che dà delle indicazioni per seguire questo principio dell'open by default vedo che ho terminato il tempo ma vado velocissimo con questi ultimi due aspetti che sono molto importanti abbiamo visto quindi quali dati aprire quali sono i criteri per identificare i dati ma come aprirli già nelle definizioni stesse di dati aperto troviamo le modalità di aprire il dato quindi il dato aperto è definito tale perché è disponibile in formato leggibile meccanicamente quindi comprensibile interpretabile sia da umani che da macchine in formato aperto quindi un formato indipendente dalle tecnologie in un proprietario le cui specifiche siano pubbliche aperte accessibile su web gratuitamente o al massimo con costi marginali anche se non abbiamo mai avuto casi almeno finora di applicazione di costi marginali con l'applicazione di licenze anche se aperte e l'argomento del tema delle licenze sarà affrontato come dicevo nell'ultimo webinar e poi provvisti dei metadati quindi la raccomandazione è che quando si crea il dato contestualmente si debbano creare i metadati proprio perché altrimenti può capitare come capita che alcune informazioni che sono utili per la descrizione del dato possano essere difficili da recuperarli e proprio per questo poi nell'intervento successivo ci focalizzeremo proprio su questo aspetto quindi partendo dalla definizione di dato aperto i requisiti sono che il dato debba essere reso disponibile se ci basiamo sull'arcinota diciamo classificazione a 5 stelle a 5 stelle il dato deve essere disponibile a partire da un livello 3 livello 3 che significa che è leggibile meccanicamente è un formato non proprietario è un dato comunque strutturato se poi ci sono sono disponibili quindi l'amministrazione rende disponibili più formati almeno uno di questi deve essere coerente con le regole delle linee guida e quindi deve essere leggibile meccanicamente è aperto quindi se le amministrazioni pubblicano dati in formato pdf ovviamente quello non può essere definito un dato aperto proprio perché il pdf come vedete è al primo livello di questa classificazione ovviamente il requisito minimo è quello di fare riferimento al livello 3 la raccomandazione è comunque di evolvere anche gradualmente verso la produzione di linked open data su cui poi affronteremo anche questo aspetto nei prossimi webinar parlando di formati le linee guida forniscono e questo è derivato da un documento europeo sulla qualità dei dati forniscono dell'indicazione su quali formati utilizzare quelli fortemente raccomandati ma ce ne sono ovviamente altri anche in funzione della tipologia del dato e c'è su questo un allegato dedicato a tutti i più comuni formati da poter utilizzare quindi c'è l'indicazione di questa tabella che fornisce anche l'indicazione quante stelle quindi a quale livello si può raggiungere di quella classificazione utilizzando quei formati tutte queste indicazioni sono applicabili ovviamente a documenti e dati e nel caso abbiamo indicato esplicitamente che nel caso in cui si producano documenti in cui sono presenti dei dati per esempio un report in cui ci sono tabelle di dati le regole delle linee guida quindi quello che stiamo dicendo sono applicabili sicuramente al documento ma i dati che sono inseriti nel report devono essere resi disponibili secondo le regole che abbiamo indicato quindi se qualcuno qualche amministrazione qualche ente pubblica un report PDF in cui ci sono tante tabelle di dati quei dati devono essere contestualmente pubblicati come dati aperti e quindi con le regole che abbiamo detto ho sforato di qualche minuto me ne ha scuso con i successivi relatori spero grazie Antonio grazie a te utilissimo anche perché appunto era una parte introduttiva assolutamente importante per inquadrare questi cinque webinar che abbiamo appunto progettato e che mettiamo in campo nei prossimi giorni chiederei adesso a Piero Paolicelli di aprire la sua webcam così ci racconta proprio quella fase che Antonio diceva della corretta metadatazione dei dati proprio per una facile agevole ricerca e individuazione tra i numerosissimi e tra il patrimonio informativo della PIA quindi a te Piero la parola l'illustrazione della tua delle tue slide che saranno miste in slide più appunto intervento direttamente online grazie Antonio Piero a te grazie grazie Ugo buongiorno a tutti io farò un intervento molto operativo per cui switcherò tra slide e siti web esempi molto pratici e parleremo di di quella che all'inizio Antonio ha parlato di identificazione e analisi dei dati ma vediamo un pochettino per esempio il formato del dato vediamo la metadatazione che vuol dire quindi adesso vi condivido il mio schermo e riparto sostanzialmente dalla slide che ho introdotto Antonio il famoso modello 5 stelle beh non ripartiamo da 0 non ripartiamo da 1 non ripartiamo da 3 ricomincio da te direbbe troisi nel senso che abbiamo visto che il 3 è il livello minimo accettato sia delle linee guida quindi dalla norma del regolamento della norma sia oggettivamente è il livello minimo per rendere i nostri dati coerenti col principio fair quindi col principio della ricercabilità col principio della accessibilità dell'interoperabilità e della riusabilità perché i dati aperti hanno il loro valore solo se sono effettivamente riusati non soltanto visualizzati per cui il modello 5 stelle il modello a 3 stelle prevede che i 3 stelle devono essere con la licenza aperta leggibili e con un formato non proprietario tra i formati non proprietari fermo restando che è il livello più basso di quello auspicabile che ripetiamo per l'ennesima volta come detto Antonio è il link do pendeta quindi gli rdf e i dati linkati arricchiti semanticamente il primo livello è il csv famosissimo csv command separated values che nel tempo si è anche un po' trasformato perché è un file di testo quindi iniziamo per dire che si apre con il blocco note o text edit è un file molto snello molto utile quindi per la interconnessione sul mondo della rete sul mondo web perché è molto leggero al punto di vista del peso è diciamo nasce per i dati tabellari quindi sostanzialmente le righe delle tabelle corrispondono alle righe del file csv e il file csv può essere anche usato non essendo uno standard definito può essere anche usato con vari tipi di separatori quindi noi potremmo avere per esempio un csv con il semi comma cioè col punto e virgola classico di quello che avete quando salvate un file csv dal vostro excel e nel caso in cui i campi siano ripetiamo i campi possono essere credo che lo sapete in una tabella i campi possono essere o testo o numero o date non si possono mischiare quindi non posso mettere un numero 20 gradi centigradi trasformo quel numero da numero naturale a un testo perché inventi cerchietto c una macchina non sa leggerlo siccome la finalità è il riuso di quel dato non dobbiamo pensare che deve essere stampato o visualizzato a video da un umano deve essere machine readable leggibile da una macchina per cui ci sono delle indicazioni nel momento in cui andiamo a strutturare il csv che sono anche di buon senso se vogliamo se usiamo un campo che è un testo possiamo anche decidere che tutti i campi di testo abbiano un carattere per delimitarlo quindi abbiamo il carattere separatore tra le colonne che può essere virgola comma semicomma può essere il tab può essere il pipe può essere altro tipo di carattere l'importante è che lo descriviamo lo scriviamo in modo tale che lo sviluppatore che utilizza quel dato lo sappia e poi abbiamo il carattere eventualmente per identificare le stringhe di testo cioè le celle che abbiano un valore di testo ci sono alcune indicazioni in particolare nella slide vi ho messo anche il link per poter andare quelle che sono le linee guida europee sulla qualità dei dati nelle linee guida europee io adesso ho fatto un estratto abbiamo fatto un estratto anche nelle linee guida sono trattati tutti i formati per cui noi oggi trattiamo nel livello più basso che è il csv però ci sono anche ovviamente gli altri formati il xml il json eccetera che vedremo magari anche in altri webinar con delle indicazioni con bad example e good example cioè cosa non fare e cosa fare sintetizzandolo se abbiamo un file per esempio una serie storica divisa per mese non pubblichiamo un csv per ciascun mese non scriviamo un csv poi arriviamo ad un certo punto mettiamo una riga vuota e continuiamo il mese successivo riga vuota no le unità di misura non le mettiamo nel contenuto del csv che deve essere un numero le mettiamo 75 spazio per cento o come ho detto prima 25 gradi centigradi le unità di misura al massimo le mettiamo nelle intestazioni ma se diventa ridondante e scomoda anche da leggere possiamo creare una tabella a parte di metadati di leggenda chi di voi lavora con i dati istat sa benissimo che i dati delle variabili censuarie sono decine e decine di colonne hanno degli acronimi P1, P2, P3, P4, E1, E2, E3 e poi c'è una leggenda che dice che P1 è la popolazione esidente E1 sono gli edifici fatti in quell'anno F sono le famiglie con tot fili per cui cercate di rendere un CSV una tabella con la prima riga di intestazione con dei campi autoparlanti più brevi possibili evitando quanto possibile per agevolare il riuso di usare caratteri speciali città di grado centigrado e poi all'interno della tabella vediamo di evitare spazi bianchi evitiamo di mettere righe bianche evitiamo di usare delle colonne che non sono utilizzate quindi capita spesso che voi alla fine della vostra tabella avete delle colonne vuote magari avete messo anche un'intestazione che per sbaglio è uno spazio non è vuoto è uno spazio per cui quando salvate quel file il file che cosa succede? viene capisce che c'è una colonna in più anche se il valore non c'è e vi mette un virgola finale o un punto e virgola finale quindi non è coerente rispetto al contenuto di dati che voi volete far vedere i programmi che vengono utilizzati per la creazione di CSV li conoscete immagino tutti quanti c'è LibreOffice che è una fondazione open source che gestisce l'intera suite di applicativi per i fogli di calcolo documenti e le presentazioni tutto il mondo di Google molte amministrazioni gestiscono i Google Workplace hanno un account con Google Workplace quindi sono compliant anche al GDPR nei limiti di questa vacazio prima che venga adottato il regolamento europeo nuovo l'Excel che è la classica piattaforma di Microsoft che però è proprietaria quindi un file Excel e due stelle però tramite l'Excel io posso generare salvando con nome un CSV quindi posso alzare il livello della riusabilità di quel dato uscendo dal mondo della chiusura di Microsoft e infine ci sono piattaforme open source che si possono installare sui vostri server come Ethercalc che vi permette la condivisione perché l'altro problema qual è? io devo pubblicare dei dati che in qualche maniera possono essere anche modificati all'interno del mio gruppo di lavoro l'abbiamo detto prima quindi immaginate all'interno dei miei uffici su quel file lavoriamo in più persone l'office collaboration allora mi serve una piattaforma web e non una piattaforma che è sul mio computer vi faccio vedere tre casi con tre scale diverse con tre esempi che a mio avviso sono buoni esempi o un esempio insomma da migliorare una è la popolazione scolastica di Lecce è un dataset che è pubblicato dal comune di Lecce lo trovate su dati.gov facendo popolazione scolastica riuscirà tutta la popolazione scolastica annualmente pubblicata dai funzionari del comune di Lecce saluto se è collegato il dottor Nuccio Massimiliano che si occupa di queste cose questo dato questo dataset viene pubblicato come vedete in doppio formato csv e excel è permesso dalle linee guida perché c'è almeno un tre stelle e quindi i secondi formati che servono per una comoda visualizzazione e non riutilizzazione sono concessi ma se io vado a vedere come è strutturato il csv i funzionari in questo caso del comune hanno deciso di usare delle colonne che identificano qui parliamo dei plessi scolastici plessi scolastici divisi per tipologia di scuola quindi tipologia dell'infanzia la scuola Cesare Battisti ha tre plessi infanzia e infanzia primaria dove sono collocati e qui è differenziato in indirizzo qui l'ha chiamato indirizzo 1 indirizzo 2 credo che ha diviso il toponimo per nome e cognome eccetera poi abbiamo gli alunni se c'è il servizio mensa c'è il tempo pieno eccetera e addirittura le coordinate geografiche perché è così completo questo dataset questa risorsa e quindi il dataset è la risorsa perché il comune pubblica una mappa dove sono ubicate le scuole e nella mappa io cliccando il pallino riesco a vedere anche quanti sono gli alunni scritti in quel determinato plesso e se quel plesso gestisce il tempo pieno il tempo quindi normale il tempo prolungato il servizio mensa però potrebbe essere anche utile fare cosa un'analisi di questo dataset di questa risorsa per capire se per esempio io stesso che sto pubblicando il dato posso aver commesso un errore immaginiamo che l'ho compilato io ho scritto l'intestazione eccetera come faccio a vedere visivamente e immediatamente come stanno le cose mi faccio un esempio al volo mi copio il link di questo CSV mi apro un foglio di lavoro di Google il foglio di lavoro di Google tra le tante funzioni che ha mi permette anche l'interoperabilità quindi posso usare una funzione che si chiama import data mi incollo l'url del CSV in questo caso io mi trovo sul mio foglio di calco di Google un collegamento interoperabile continuo con la risorsa pubblicata dall'ente X questa questa possibilità mi permette anche di fare un controllo statistico per esempio posso fare una tabella pivot al volo e vedere la per tipologia e che riesco a vedere già io anche io che ho prodotto il dato se ho commesso degli errori nello scrivere la colonna tipologia il contenuto della colonna tipologia per esempio potrei aver scritto primaria una volta con la P maiuscola una volta con la P minuscola quindi questa opera di uso che io stesso faccio i miei stessi dati con uno strumento diverso dalla visualizzazione classica tabellare ma appunto una tabella pivot di aggregazione mi permette di notare se ci sono dei macroscopici errori io qua consiglierei di non scrivere secondo punto primo grado secondo punto secondo grado ma secondario primo grado secondario secondo grado che senso ha contrarre così come già che ci siamo possiamo fare un'analisi del numero di alunni per tipologia di scuola l'ho fatto al volo quindi riesco a capire adesso quanti sono gli alunni per tipologia di scuola e quindi poter fare al volo un filtro e quindi poter fare anche un grafico e analizzare per esempio io che sono un decisore pubblico analizzare quali possono essere delle dinamiche e in effetti sono dinamiche che sono state abbastanza in comune tra la maggior parte dell'Italia il primo grado e il secondo grado messi insieme fa circa il 70% della popolazione scolastica quindi nel momento per esempio della pandemia si è deciso che i ragazzi più grandi stessero a casa gli ultimi ragazzi di 14 anni dove potevano stare a casa per legge tutti gli altri possono andare a scuola che corrisponde un terzo vediamo un altro esempio l'altro esempio che invece scala completamente è il PNRR per i comuni il PNRR per i comuni il PA digitale quindi dipartimento per la trasformazione digitale pubblica un dataset sui finanziamenti che ricevono i singoli comuni cambia un po' l'ottica perché in questo caso il riuso non è locale è un riuso nazionale quindi io arricchisco loro hanno arricchito il dataset di varie informazioni lo rendono continuamente aggiornato ma soprattutto la risorsa cambia un po' lo scenario perché essendo una risorsa nazionale quindi non di un singolo comune inserisco degli altri campi utili per un riutilizzo per esempio il codice ISTAT il codice IPA quindi nel momento in cui io vado a vedere in questo caso la tabella cerco di seguire quelle che sono le ontologie o cerco di seguire degli schemi ontologici per esempio del National Data Catalog e quindi nel momento in cui vado a pubblicare dati anche come indicazioni a parte i dati del singolo comune io vado a mettere il codice IPA il codice comune la provincia il codice della regione perché? perché io così questi codici che sono univoci i codici non i nomi dei comuni perché i nomi possono cambiare Nardocco l'apostrofo Nardocco l'accento immaginate tutti i dati i comuni trasfrontalieri per esempio piemontesi o quelli bilingua come quelli altotesini il codice ISTAT mi identifica in maniera univoca invece il codice ISTAT è un numero facendo così io posso incrociare questi dati con per esempio i dati ISTAT della popolazione e quindi costruire dei riusi diversi quindi posso fare il totale finanziato per ogni comune diviso la popolazione quindi ho il finanziato pro capite pro capite vuol dire una cosa del genere questo è il caso della Puglia io ho il totale finanziato per il comune per il cittadino il comune di Ascoli Satriano ha avuto 58 euro finanziato per la transizione digitale contro il comune di Lecce che ha avuto 4 euro può essere che non ha voluto partecipare i bandi non è stato efficiente non ha voluto è un discorso che poi si approfondisce però questi sono i dati pubblici e infine ultimo caso il catastro rifiuti se noi andiamo a prendere il catastro rifiuti questo è un caso migliorabile perché nel momento in cui io vado a vedermi i dati della raccolta differenziata italiana mi vado a esportare questa tabella la apro con il file di testo vado a vedere come è strutturata questa tabella vi ricordate le indicazioni che abbiamo dato prima la apro con blocco note zoom un attimo così possiate vedere un po' meglio mi accorgo di alcune cose che andrebbero migliorate per prima qui c'è una doppia intestazione classico quando si usa l'excel che c'è la reportistica anno 2000 poi sotto l'intestazione da tabella no poi questi sono i dati delle regioni italiane e non so perché qui c'è scritto provincia e sotto c'è l'elenco delle regioni quindi qua è regione poi popolazione spazio numero punto abitanti togliamo questi valori creiamo una bella leggenda a fianco percentuale è già percentuale e qua togliamo un po' di spazi da qualche parte scriverò tutte le questionità di misura ripeto e qui purtroppo mi rendo conto di un altro errore che vedete c'è un punto e virgola finale cioè il csv il separatore mi dice che c'è una colonna vuota e quindi mi dobbiamo cancellare tutte quante le colonne oh scusate ho sbagliato mi dobbiamo cancellare tutte quante le colonne vuote perché una macchina non saprebbe che farsene con la colonna vuota se devo fare un grafico ho un campo vuoto 0 perché si mi da 0 oppure mi da md non dichiarato ancora il percentuale raccolta e differenziata 78 spazio percentuale questo non è un numero è un testo come faccio a fare un grafico per i comuni più virtuosi le regioni più virtuose e quindi sono faccio e se non fa di testo faccio sostituisci tutto ciò che è spazio percentuale sostituiscilo con nulla e così ho pulito un po' il file che me ne faccio di un file del genere posso visualizzarlo l'abbiamo visto prima con data wrapper posso creare una mappa al volo 20 secondi crea una mappa al volo delle regioni italiane più virtuose per o raccolta differenziata percentuale o pro capite che è ancora più diviso la popolazione quindi io faccio Italia regioni nel momento in cui prendo l'Italia regioni mi posso incollare direttamente quei dati che adesso dovrebbero essere puliti mi darà degli errori lui non sa come unire i dati e io gli dico di unirlo rispetto al nome della regione due regioni si chiamano diversamente da quelli che dovrebbero essere lista una è il Valle d'Aosta l'altra è il trentino alto agge slash sud di Tirolo ho finito il momento in cui vado a visualizzare una mappa coropletica ovviamente non lo vado a fare per popolazione sappiamo che la Lombardia è la regione in Italia con più persone la facciamo per percentuale raccolta differenziata già qui ho un'indicazione delle regioni più virtuose rispetto alle regioni un po' meno virtuose se addirittura vado a fare il pro capite di raccolta differenziata quindi qua è in base alla normalizzazione della popolazione e quindi la prima regione in Italia è l'Unione Romagna ovviamente non pubblico il dato altrimenti dovrei mettere la licenza dovrei mettere tutto magari mi ricordo che una cosa del genere conviene metterci un numero visuale percentuale a quali differenziati al numero visuale perché i colori quando sono simili non sono leggibilissimi bene andando avanti adesso rimane l'ultima parte che farò in due minuti e 49 secondi la metadatazione ok ho costruito la mia tabella che ne faccio le devo pubblicare sul mio portale open data non c'ho il portale open data c'ho il portale open data può essere socrata può essere dcan può essere ccan che è più famoso non ce l'ho c'ho un sito internet il mio comune ha 500 anime già molte che io riesco a pubblicare questo file excel bene lo trasformo in csv mi costruisco tramite questo configuratore che noi abbiamo messo a disposizione un foglio di calcolo vero e proprio ve lo vediamo noi inserite i nomi dei dataset inserite l'indirizzo dove andare a scaricare la risorsa e in automatico vi viene creato il file che dovete comunicare ad agid per importare il vostro catalogo open data l'operazione è sostanzialmente questa voi avete un configuratore è sul sito di dati.gov.it lo configurate come mettendo il nome del catalogo comune di albano laziale faccio un esempio che ha 1600 dataset quindi non è l'esempio corretto deve essere un comune che ha 1, 2, 3 dataset 5 dataset non ha le risorse per fare un portale open data e non ha le risorse per interfacciare automaticamente i web service verso l'esterno però ha dei dati che vengono ritenuti importanti quindi fa il titolo la descrizione all'editore poi ci sono altri webinar dove ho fatto vedere come compilare questo file si fa l'organizzazione il dataset quindi che file devo pubblicare questi sono i dati per l'accoglienza ucraina per ciascun dataset vado a mettere il link al file da scaricare che è quindi quest'altro foglio finito faccio file genera edf e lui mi dà il file che devo mettere sul sito internet che non è altro che l'indice di tutto il portale open data che io non ho ma viene simulato sul mio portale open data altrimenti se ho un siken chi di voi conosce siken sa che per caricare i passaggi dei metadati bisogna stare un attimo attenti mi prendo due minuti in più suppriamo che volessi caricare proprio il dato che abbiamo visto del catastro rifiuti da zero cioè il file salvato sul mio computer metto un titolo catastro rifiuti su base nazionale su base regionale anno 2021 descrizione file con l'indicazione per colonne in tonnellate percentuale scriverò eccetera 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 l'identificativo è un codice univoco che identifica il file di solito viene preso l'elenco c'è lo stop che mi dà lo stop viene preso il nome che mi ha creato il sistema in automatico è il codice ipa identificativo della mia pubblica amministrazione supponiamo che fosse un comune c underscore e uno uno e vado a incollare il catastro di fiuti metto la lingua metto la licenza del dataset che non è un campo obbligatorio ma fortemente raccomandato la licenza obbligatoria sulla risorsa quindi sul file che mettiamo dopo quindi comunque metto la licenza che è l'intero dataset creative commons di solito è coerente anche con le singole risorse per adesso lo lascio in stato privato quindi una semplice compilazione di taskalica nel momento in cui vado a fare classificazioni devo dire che questo è un tema che riguarda un campo obbligatorio l'ambiente sotto tema politica dell'ambiente tag qua scrivo rifiuti cioè le parole chiave affinché sia ricercabile fendable quante più cose inserisco più sarà facile ricercarlo perché c'ho il tema ambiente trova tutti i dati ambientali il sottotema politica dell'ambiente le parole chiave i soggetti colui che pubblica adesso facciamo come uno di Bugliano editore è la redazione open data quindi sarà l'ufficio IT del comune di Bugliano ho già finito la parte della compilazione devo soltanto mettere la data di modifica del dataset che probabilmente non si coincide se la prima volta che lo collego che lo creo con la data di oggi questi sono i dati relativi al casasso di future 2021 quando li aggiornerò mai perché l'anno prossimo farò catasso di fiuto anno 2022 non è una serie storica per cui la frequenza di aggiornamento da scegliere di un dataset che non cambierà mai è appunto mai se invece un progressivo posso fare bimestrale semestrale quindicennale quindici scusatemi bimestrale bisettimanale qui il nome della località in questo caso non c'entra perché è tutta Italia se non mi potevi mettere il nome del mio comune ho finito quindi al momento in cui vado avanti sto facendo tutti i campi vuoti che sono tutti quanti opzionali potrei al massimo mettere il manutentore del dataset o l'autore ufficio ambiente tal detali col mittente non mettete i nomi propri col mittente e le mail dell'ufficio poi mi chiedi di raggiungere il dato quindi finalmente siamo arrivati ok ho creato il dataset il contenitore voglio metterci la risorsa al momento in cui vado a fare aggiungere il dato o lo carico quindi faccio carica e vado insieme il file oppure se ho un link perché c'è un sistema interoperabile metto il link ok ora il file me lo ho scaricato faccio scarica e prendo il file appena scaricato nota nome come lo chiamo questo file lo chiamo raccolta di tutto attaccato 2021 e il nome del file che vi ho scaricato descrizione file in formato csv con separatore punte virgola perché questo è il separatore che abbiamo messo a questo tipo di file qua metto che ho in csv qua metto pure il csv adesso qua non me lo trovo perché non ho nessuna cosa demo licenza della risorsa fondamentale la licenza della risorsa secondo il libro di guida deve essere creative commons attribuzione 4 o più permissiva quindi ho questa o una di queste qua sopra se le mie linee guida regionali o comunali indicano la ccby adottata perché sa anche come monitoraggio in un piano triennale ci metto la ccby 4 e metto ccby 4 fa tutto ho finito si fa finito e il dataset è già pubblicato chi lavora all'interno del sistema IT del vostro portale open data poi scaricherà i file o perché è generato la configuratore o perché è generato il vostro portale open data e lo validerà sul validatore che abbiamo messo online dentro dati.gov ok interrompo la condivisione si grazie grazie Piero no ben 23 minuti ho condensato l'importanza è proprio per individuare e capire passo passo come procedere in questa direzione ovviamente avremo anche gli altri 4 appuntamenti del ciclo proprio per approfondire e capire un po' i vari passaggi essendo appunto tanti gli elementi necessari per una corretta pubblicazione e applicazione delle linee guida stessa ora passiamo all'intervento del collega Nicola Veglianti che un po' cita il quadro in cui si colloca questa iniziativa questa attività che è appunto proprio quello del piano triennale proprio per capire come si è mossa l'agenzia nel definire un quadro comune e di aiuto alle amministrazioni proprio nei processi di pubblicazione e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico Nicola a te la parola grazie 15 minuti ci vediamo a termine grazie speriamo anche di recuperare qualcosina così lasciamo spazio anche ai colleghi per raccontare la loro esperienza e per le domande vediamo se riusciamo a riassurare naturalmente allora come abbiamo iniziato questo webinar andando a descrivere un po' qual è poi il processo di preparazione dei dati e in questo processo di preparazione dei dati oggi siamo focalizzati diciamo nella prima parte nell'identificazione e in questa identificazione c'è appunto anche la necessità di andare a definire delle priorità e di andare anche a definire un percorso di apertura dei dati dando anche una scala di priorità e definire quali sono appunto i dati più importanti ora nella linea guida viene suggerito e viene espressamente dichiarato che questa attività quindi questo percorso può essere sistematizzato attraverso l'inserimento nel piano trennale della pubblica amministrazione piano trennale che può essere costruito e creato anche utilizzando il format PT ora questi pochi minuti sarà un modo per chiarire che cos'è questo oggetto misterioso ovvero il format PT il format PT nasce nello scorso anno sostanzialmente attraverso un processo di coprogettazione con amministrazione di diverse amministrazioni sia per entità e sia per dimensione abbiamo costruito un rapporto sia con amministrazioni centrali con gli enti di previdenza con le regioni città metropolitane e comuni proprio per andare incontro alle necessità delle varie amministrazioni alle diverse peculiarità al fine di creare un modello standard che potesse aiutare le amministrazioni a creare il loro piano trennale ICT questo per assolvere una duplice scopo sostanzialmente sia da un punto di vista istituzionale perché l'articolo 14b del CAD ha le funzioni dell'agenzia per l'Italia del digitale dal compito di programmare e coordinare le attività dell'amministrazione in ambito informatico sia dall'altro appunto agevolare l'amministrazione ad andare a creare un loro piano operativo e quindi supportare nella creazione di ciò viene da sé che appunto gli obiettivi sottostanti alla creazione di questo obiettivo di questo piano siano sostanzialmente tre quello di andare ad uniformare i piani trennali delle diverse amministrazioni tra i piani delle amministrazioni stesse e da quello che creano è quello del piano ICT che viene pubblicato da Agit nello stesso tempo lo vedremo più avanti anche da delle indicazioni che le possa facilitare ad aiutare sia nella redazione che nella pubblicazione di questo piano e sia andare a supportare le amministrazioni nell'attività di monitoraggio perché poi sostanzialmente ciò che è veramente importante nell'amministrazione oltre a definire delle attività degli obiettivi è quello di andare a capire anno per anno monitorare i risultati che si sono raggiunti e poi anche lo scopo per Agit di andare attraverso la consultazione di questi piani di questa documentazione e andare a capire come vengono ricepite le linee d'azione definite nel piano trenale di Agit da parte delle amministrazioni delle singole amministrazioni ora per raggiungere questi obiettivi sono stati creati due output che poi adesso nella rapidità cercare di recuperare qualche tempo nell'ultima slide troverete comunque i link qualora siate incuriositi e vogliate andare ad approfondire questa attività di coprogettazione è andata a creare due output sostanzialmente un modello uno schema di redazione che segue pedisseguamente il piano trennale come è stato detto anche Podanzi ieri è stato pubblicato l'aggiornamento 2022-2024 che trovate sul sito istituzionale di Agit e dall'altra anche una guida che adesso andremo a andare a vedere rapidamente che possa dare delle indicazioni operative all'amministrazione su come poter procedere alla redazione del proprio piano sostanzialmente questa struttura va da sé si costituisce di tre parti ora per motivi di tempo guarderemo sostanzialmente passatemi il termine forse la parte più importante ovvero gli elementi costitutivi del format quindi le vere e proprie i veri e propri silos che conformano che vanno a formare questo format lasciando un po' da parte quelle che poi sono le istruzioni generali e il percorso di redazione che comunque troverete in maniera dettagliata nella documentazione disponibile sul sito le istruzioni generali velocissimamente che vanno da sé sono istruzioni prevalentemente operative per andare a creare un modello stilistico minimo che possa rendere omogenei i piani tra di essi quindi dal titolo dove si suggerisce di definirlo il piano trennale per la transizione al digitale in questo caso slegato un po' dall'ambito perché comunque il digitale questo percorso non è strettamente collegato solo all'aspetto tecnologico ma invade un po' tutti gli aspetti dell'amministrazione anche il suggerimento di andare a definire un sottotitolo che possa andare a collegare qual è il piano trennale di agi di riferimento sul quale sono state create le attività dell'ente fino a poi arrivare alle cose più ovvie come chiamare i capitoli eccetera eccetera inoltre c'è anche un suggerimento di percorso di iter di approvazione che vuole aiutare o almeno suggerire all'ente quali possono essere i step fondamentali anche attraverso l'esperienza di Agit che possa aiutare l'amministrazione ad arrivare alle prime fasi di sal di monitoraggio da un punto di partenza quindi di ricognizione all'interno della propria amministrazione fino ad arrivare a quegli aspetti di condivisione di prima stesura di bozza fino alla pubblicazione ora vediamo questi elementi costitutivi del format sostanzialmente sono tre si inizia con l'introduzione per creare questo piano l'amministrazione deve partire dall'introduzione perché partire dall'introduzione è fondamentale andare a descrivere sia il contesto normativo sia quello strategico perché fare ciò perché questo può aiutare a capire per quale motivo l'amministrazione sta andando in una determinata direzione ci sono ovviamente dei vincoli normativi ci saranno anche dei vincoli organizzativi quindi anche delle risorse banalmente delle risorse a disposizione umane e dall'altra anche andare a definire un po' qual è il contesto strategico in cui si muove l'amministrazione si può fare riferimento anche qui al desico tutti i limiti che esso ha ad esempio non parla di cyber security però si può fare riferimento ad altri strumenti chiamiamoli manageriali di uso comuni come può essere la SWOT o l'analisi PEST comunque l'obiettivo sottostante passatemi anche qui il termine è l'idea di andare a costringere un po' l'amministrazione a conoscere se stessa andare a definire quali sono le priorità che essa ha quali sono i vincoli sia economici che di risorse che essa ha di andare a valutare le alternative che possono essere messe in campo tutto ciò poi per andare a declinare quali sono gli obiettivi che si prefigge l'amministrazione nell'arco dei tre anni dare anche delle responsabilità prima si è parlato del responsabile della transizione digitale introdotto con la circolare numero 3 del 2018 perché una vecchia pubblicità diceva la potenza è nulla senza il controllo se si danno degli obiettivi se si mettono in campo delle azioni ma nessuno ne è responsabile difficilmente poi verranno portate al termine e poi in maniera un po' più veniale anche qui passate il termine anche andare ad indicare la spesa che queste azioni comportano ora oltre a questa introduzione generale il piano dell'amministrazione deve andarsi a costituire di capitoli per ciascun capitolo che possono ricarcare quello che è il piano alternale di Agile ovviamente ritorno al concetto di prima di uniformare non va letta questa parola uniformare non va letta con l'obiettivo che tutti i piani devono essere identici tra di loro l'amministrazione ha le sue peculiarità e può ovviamente personalizzarlo l'obiettivo comunque è quello di andare a ricalcare la nomenclatura dei capitoli del piano alternale Agile quindi andando a fare riferimento a quelli che sono sia i layer orizzontali che quelli trasversali del modello strategico ST della pubblica amministrazione quindi banalmente ricalcando tutte le componenti tecnologiche che sono i dati le piattaforme i servizi le infrastrutture e la sicurezza oppure appunto quelli trasversali come l'interoperabilità della sicurezza una volta dato il nome a questo capitolo all'interno di ogni capitolo anche qui va in maniera ovviamente più circoscritta all'ambito di riferimento va rifatto una minima descrizione di contesto andare a definire degli obiettivi e poi vedremo un esempio più avanti che cerca di ricalcare anche la tematica di oggi andare a definire un set di indicatori quali quantitativi misurabili e appunto per il monitoraggio perché come dicevamo prima è necessario andare a monitorare e capire se le azioni si sono state portate a termine o meno oltre a ciò andare a definire anche una roadmap delle linee di azione qual è la differenza tra le linee di azione e i risultati attesi io ho un obiettivo definisco quali sono dei desiderata come voglio portare da una situazione di asisa a un to be desiderata però poi devo andare a mettere in concreto devo operare delle azioni concrete e quindi descriverle in maniera più dettagliata possibile oltre a ciò in un certo vanno anche evidenziate qualora possibile anche mettendo in risalto quali sono state le difficoltà incontrate nel percorso di sviluppo dei propri obiettivi perché come dicevamo prima l'obiettivo di uniformare questi piani trenali non sono solo da una parte da un lato istituzionale per facilitare Agile e capire se le linee di azione del piano sono state effettivamente ricepite se le amministrazioni le stanno portando all'interno del proprio ente ma anche aiutare qualora possibile gli enti e passate il mio termine anche qui scopiazzarsi tra di loro sostanzialmente se io ho trovato una difficoltà ma so che un'amministrazione sta portando a termine le mie stesse azioni potrei andare a capire come essa la sta portando avanti e potrei trovare dei suggerimenti o delle accortezze che mi possano aiutare a portarla avanti in maniera più spedita sostanzialmente ora vediamo due esempi di come andare a costituire appunto i risultati attesi e le linee di azione di che cosa vengono di cosa sono composti i risultati attesi quindi facciamo un esempio abbiamo siamo nel capitolo 2 descriviamo il nostro contesto le normative possiamo fare ovviamente si farà riferimento alle linee guida quindi l'amministrazione è vincolato dalle linee guida eccetera eccetera in tutto ciò in questo contesto normativo nel rispetto e nei limiti delle mie risorse economiche delle mie risorse umane mi pongo l'obiettivo di andare a favorire la condivisione e l'utilizzo dei dati ora questo obiettivo va deve avere dei target raggiungibili deve avere che vanno definiti ora possono essere di due maniere sostanzialmente possono essere sia in una logica di switch off faccio o non faccio una cosa ho portato a termine una determinata azione o meno oppure nel più delle volte hanno questa logica rolling perché questa logica rolling perché anno su anno io posso andare a monitorare se ho effettivamente raggiunto il target che mi ero prefissato o meno perché le cose cambiano sia da un punto di vista organizzativo che normativo mi posso essere reso conto che una cosa non è più necessaria e quindi devo aggiustare il tiro oppure dovrò intervenire su questa catena di obiettivo risultato atteso target perché sono andato oltre le aspettative ho raggiunto prima il target oppure in caso contrario in maniera negativa mi sono reso conto che per difficoltà interne non sono riuscito a raggiungere quindi devo andare a ritarare sostanzialmente quelli che sono i miei obiettivi nell'arco dei tre anni come potete vedere il risultato atteso sostanzialmente si costituisce attraverso la definizione di una baseline quindi prendiamo un anno un punto di partenza un anno in cui in questo caso riprendendo il tema di oggi si va ad individuare la percentuale di dataset che vengono resi disponibili come open data e quindi da questo punto di partenza una volta che ho fatto la mia ricognizione e so quant'è la percentuale di dati che io ho reso aperto in open data come open data ogni anno vado a definire un aumento oppure una determinata percentuale dicendo che nell'anno X più 1 il 50% dei dati della pubblica amministrazione magari adesso stringendo il campo possiamo fare esempio dei dati nativi potrò dire il 50% dei dati nativi e quindi di quelli che produce l'amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni dovranno essere resi come open data e quindi si vanno a costituire questi risultati attesi adesso poi sostanzialmente dopo aver definito questi risultati attesi devo andare a mettere in campo delle azioni concrete quindi le linee di azione ho definito un risultato atteso voglio rendere i data set come open data so quali sono i risultati che voglio per raggiungere come farlo adesso facciamo un esempio ricalcando le linee guide sostanzialmente per farlo dovrò fare prima di tutto dovrò andare a definire dei ruoli e delle responsabilità perché è necessario andare a definire è necessaria una data governance prima si parlava non solo dei responsabili per la transizione digitale ci deve essere anche una condivisione andare a creare team tematici andando a fare riferimento anche al responsabile del garante della privacy al responsabile della sicurezza quindi andare a costituire un team dedicato come un primo step successivamente come anche visto nella prima fase dell'identificazione andare a fare anche una ricognizione dei dati dinamici prodotti dalle unità organizzative dell'ente quindi andare a capire effettivamente quali sono i dati nativi quali sono i dati mashup quali dare delle scale di priorità eccetera 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 e poi sostanzialmente andare a sforare in questo caso anche una seconda fase andare a fare anche un'analisi della qualità dei dati quindi andare a capire se ci sono stati degli errori sia da un punto di vista di dati strettamente dei dati riconducibili ai dati oppure degli errori dei dati riconducibili al processo di produzione dei dati quindi fare questa quest'analisi ed eventualmente una bonifica andando a pulirli abbiamo visto alcuni esempi prima e quindi per renderli più possibili utilizzabili all'esterno ovviamente dopo aver costituito queste attività operative bisogna ed è necessario andare a definire una deadline qui abbiamo ovviamente un esempio aprile del 2023 perché senza una tempistica ben precisa è difficile poi riuscire a monitorare le proprie attività porta a dare una deadline ritornando al concetto di prima dare delle responsabilità anche qui l'RTD e poi andare a dare anche un'evidenza di quanto queste attività interna l'amministrazione comportano un costo per l'ente e quindi dando evidenza al capitolo di spese e di finanziamento sostanzialmente con questo si conclude poi la seconda parte del format e del piano dell'amministrazione che va poi a concludersi con una terza parte che è quello della governance quindi sostanzialmente una volta che l'amministrazione ha concluso la redazione del proprio piano avrà un capitolo tecnologico per ogni layer del modello strategico della pubblica amministrazione avrà all'interno del quale avrà i propri obiettivi i propri risultati attesi e le proprie azioni e poi a conclusione avrà anche un capitolo con la stessa struttura quindi anche all'interno di questo capitolo non tecnologico però della governance andranno descritti quali sono gli obiettivi quali sono i risultati e quali sono le azioni da mettere in atto però ovviamente slegato dalla mera componente tecnologica ma per andare a mettere risalto come vengono conseguiti gli obiettivi quali sono le responsabilità e magari perché no andando anche a dividenziare come rafforzare le competenze antenne e le amministrazioni attraverso magari il syllabus o il dicomp eccetera eccetera ho visto e ho concluso il tempo come vi dicevo sostanzialmente per curiosità netto che poi ci avremo il tempo delle domande ma qualora voleste approfondirlo in maniera un po' più dettagliata sul sito di Agid ci sono i link ipertestuale quindi lo troverete ci sarà troverete sia la guida che abbiamo visto velocemente ma in maniera più dettagliata sia proprio lo schema con quale l'amministrazione può scaricare e può cominciare a redigere proprio piano trennare spero di aver recuperato qualche minuto e lascio la parola ai colleghi grazie Nicola penso che mi sentiate adesso vedo l'immagine che si è aperta della della condivisione andiamo rapidamente al comune di Modena che ci racconta la sua esperienza appunto di apertura e di condivisione dei dati a te la parola Alessandra Valentini buongiorno mi chiamo Alessandra Valentini e lavoro al settore Smart City del comune di Modena e in particolare mi occupo di Open Data e in particolare del progetto che abbiamo chiamato Valorizziamo del comune di Modena che è partito a settembre 2021 per volontà del dirigente dell'allora dirigente del settore che voleva decidere proprio un rinnovamento del processo degli Open Data e noi partivamo da una situazione in cui gli Open Data venivano gestiti sul SICAN della regione e purtroppo avevamo qualche problema perché i dati non risultavano sempre aggiornati perché facevamo dei caricamenti manuali di file CSV oppure ad esempio di Shapefile e quindi volevamo migliorare questo processo quindi cosa abbiamo fatto ci siamo messi a studiare le linee guida Open Data che erano molto davano molta informazione anche a livello progettuale e perché no abbiamo preso spunto dai comuni più dagli enti più virtuosi per vedere che cosa pubblicavano e quale fosse il loro stato dell'arte e quale fosse il loro processo di produttivo dei dati quindi dopo questo studio questo studio molto impegnativo di queste direttive abbiamo capito che come progetto potevamo porci due obiettivi principali il primo obiettivo era quello di creare un processo Open Data che reggesse nel tempo cioè che i dati non dipendessero quindi da un caricamento manuale ma che venisse automatizzato l'altra cosa invece che ci interessava molto visto il livello lavorativo proprio dei dipendenti del comune era quello di avere un basso impatto nei loro processi lavorativi il secondo obiettivo invece il secondo obiettivo che avevamo era di pubblicare i dati geografici sul registro nazionale dei dati territoriali questo ha fatto sì che il nostro focus fosse concentrato proprio su i dataset di tipo territoriale e questo ci ha anche portato a fare delle scelte di tipo tecnico di tipo tecnico un po' particolare nel senso che noi abbiamo scelto SICAN come lo strumento di pubblicazione del nostro catalogo Open Data cosa che facevamo poi già anche con Regione che aveva lo stesso strumento però ci siamo avvalsi come strumento di pubblicazione su SICAN e come strumento di metadatazione di un modulo del gestionale del sistema informativo territoriale in questo modo ci siamo già trovati disponibili tutti i dataset di tipo geografico quindi per ottemperare il nostro secondo obiettivo e quindi avevamo anche a disposizione però attraverso questo modulo tutte le fonti dati disponibili come gestionali dell'ente e accanto a questo processo di tipo tecnico però abbiamo anche affiancato delle attività organizzative questo perché non volevamo che la nascita del progetto Open Data riguardasse solo il nostro settore cioè il settore Smart City ma che coinvolgesse tutto l'ente e che tutti avessero la contezza di quello che stava succedendo e del nostro progetto quindi abbiamo individuato dei referenti di servizio incaricati proprio ad assisterci nell'individuazione e nella validazione di questi dataset e a questi referenti abbiamo fatto una formazione una formazione a tema Open Data e devo dire che questa formazione è risultata davvero proficua anche per gli operatori che si erano spessi trovati di fronte a concetti come il concetto di metadatazione o di licensing dei dati e dei dataset e dei documenti che non avevano ancora affrontato in maniera approfondita e quindi ha chiarito ulteriori dubbi nei confronti del loro operato dopo questa prima attività di individuazione dei referenti di servizio ci siamo posti come obiettivo quello di intervistarli e la nostra strategia è stata questa non siamo partiti prima di intervistare ciascun servizio ci siamo domandati se avevamo a disposizione già un set di dataset da proporgli in modo tale da comunque avere già una prima base per partire per avere un elenco di dataset e successivamente abbiamo poi anche indagato se ci fossero stati ulteriori dataset di cui non non avevamo contezze che avrebbero potuto essere comunque inseriti all'interno del nostro catalogo e in queste interviste per ognuno dei dataset abbiamo cercato di compilare tutti i dati di metadattazione sia di katapit che rndt in modo tale di arrivare a di avere un buon processo di pianificazione per poi passare alla parte operativa allora fondamentali sono stati delle figure che ci hanno affiancato che hanno affiancato il team open data che sono i referenti dei sistemi informativi che si occupano dei gestionali che praticamente dei che si occupano dei gestionali quando andavamo a fare un'intervista a un determinato servizio ci portavamo con noi il referente del gestionale che comunque era veramente a conoscenza aveva una conoscenza approfondita di tutti i campi e che ha potuto dare una mano non solo nella definizione del dataset di pubblicare ma anche di tutti i campi che potessero essere pubblicati un secondo figura molto importante che ci supporta tuttora è il referente del comune per quanto nell'ambito di privacy perché su diversi campi abbiamo avuto un po' di dubbi sulla pubblicazione e quindi questa persona ci ha comunque aiutato proprio nel definire nel decidere di pubblicare o meno alcuni campi nei vari dataset e quindi dopo tutto questo lavoro di pianificazione siamo arrivati a una prima bozza di un catalogo di open data che altro non era che un foglio di calcolo all'interno del quale abbiamo cercato di inserire tutte le informazioni possibili quindi oltre ai dati di metadattazione di catapiti rndt anche dove come fosse possibile reperire il file l'eventuale vista sullo schema relazionale tutto quello che poteva essere proprio di aiuto poi successivamente per l'operatività e devo dire che tutto questo lavoro proficuo di pianificazione comprese le interviste che è durato circa tre mesi che è da settembre fino verso dicembre ha aiutato moltissimo nella successiva fase poi di creazione dei dataset perché avendo pianificato tutto dopo abbiamo potuto facilmente creare i dataset metadattarli e pubblicarli molto molto importante è stata secondo me la parte di validazione finale con gli uffici nel senso che noi abbiamo spedito a tutti i referenti i link dei dataset che andavamo a pubblicare che sono stati validati e a quel punto verso fine gennaio del 2022 abbiamo pubblicato il nostro portale SICAN con i nostri primi 120 dataset che adesso sono già 140 quindi piano piano stiamo continuando ad aumentare la produzione poi abbiamo messo il focus sul portare i nostri dati sui portali regionali e di conseguenza sul portale nazionale e abbiamo manca in quest'ultima fase proprio la pubblicazione sul geoportale regionale che per adesso è ancora in fase di in fase di ultimazione di collaudo e quindi questa è stata la nostra esperienza è un progetto sfidante e insomma cerchiamo di proseguire anche quest'altro anno pensiamo di pubblicare i primi dati di tipo dinamico e questa è la nostra esperienza per adesso come comune di Modena e passerei la parola a Pier Giorgio che darà dettagli ulteriori grazie Alessandra io mi chiamo Pier Giorgio Cipriano e sono project manager in Dedanext aspettiamo che arrivino le slide come Dedanext abbiamo supportato il comune di Modena nella realizzazione del proprio portale open data e come ricordato da Alessandra gli obiettivi e i requisiti che il comune aveva definito in fase di avvio erano essenzialmente di tre tipi il primo come già ricordato da Alessandra permettere una gestione di flussi automatici per aggiornare in alcuni casi in maniera continua o sistematica i dati sul portale open data in particolare per i dati e qua ne vediamo un esempio provenienti da gestionali come quello utilizzato presso lo sportello unico attività produttive il secondo era il secondo obiettivo era quello di compilare i metadati quindi la descrizione dei dati in maniera veloce semplice evitando di far perdere troppo tempo appunto agli utenti editor e il terzo obiettivo era quello di compilare i metadati una volta sola in modo poi da pubblicarli però con rappresentazioni diverse su piattaforme diverse in conformità a specifiche diverse come quelle già ricordate anche da Alessandra ovvero di CataP IT quindi il profilo nazionale della specifica di CataP nonché per i dati geografici specifiche come lo standard ISO 1915 ripreso anche dalla directiva Inspire e dalle specifiche nazionali RN di T ora il portale come già detto è basato su SICAN quindi una soluzione open source e permette come base quello di avere una preview dei dati che nel caso dei dati geografici sono esposti tramite layer di tipo WMS lo stesso layer WMS quindi può essere acceduto tramite software diversi quindi tramite client come QGIS in questo caso in modo da vedere lo stesso diciamo la stessa visualizzazione dei dati quindi la stessa rappresentazione dei dati non soltanto all'interno del portale open data ma anche all'interno di client diversi ora lo stesso avviene per quanto riguarda l'accesso vero e proprio quindi analogamente l'accesso ai dati avviene sfruttando servizi WFS per esempio da QGIS nel caso di dati geografici quindi lo stesso layer che vedevamo prima ovvero il dataset delle attività artigianali può essere acceduto da QGIS quindi da un software GIS in grado di diciamo di interagire in maniera interoperabile con il server geografico del comune di Modena ma la stessa cosa si presenta anche per quanto riguarda la rappresentazione in formato tabellare dello stesso dataset come per esempio la rappresentazione quindi del formato CSV che può essere acceduto in maniera interoperabile da fogli di calcolo come Excel o come per esempio già indicava prima il collega di Agid Paolo Icelli da fogli Google quindi è possibile configurare importare in maniera automatica e dinamica i dati copiando e incollando l'URL in questo caso in questo screenshot all'interno di Excel in modo da rappresentarli sotto forma tabellare sul proprio PC il secondo obiettivo era quello di compilare i metadati in maniera veloce quindi il requisito specifico era quello di far perdere meno tempo a chi diciamo quei poveri passatemi il termine poveri tapini costretti a scrivere a descrivere compilare schede e metadati quindi i cosiddetti utenti editor per fare questo il comune di Modena utilizza un'applicazione web sviluppata da DataNext che si chiama GeoNext Data Catalog che è appunto lo strumento gestionale del sistema informativo territoriale e per questo abbiamo previsto che chi appunto si trovasse costretto a compilare metadati avesse comunque un'agevolazione quindi trovasse precompilati alcuni valori precompilati perché o valorizzati in automatico oppure predefiniti da un utente admin in questa slide e in quelle anche poi successive vediamo in rosso gli elementi compilati di volta in volta dall'utente editor mentre in blu quelli prevalorizzati in alcuni casi si tratta di elementi di valori fissi quindi che poi non possono essere modificati in altri sono valori preconfigurati ma modificabili laddove è necessario questo avviene per tutte le sezioni diciamo della scheda metadato per esempio quella relativa alla classificazione e ai vincoli oppure quella relativa alla distribuzione del dato dove per esempio troviamo tra i valori prevalorizzati in automatico anche le URL per accedere alle varie risorse in questo caso risorse WMS WordPress Shape CSV oppure la sezione riguardante la qualità questo avviene grazie al fatto che c'è la possibilità da parte dell'utente admin di configurare di preconfigurare alcuni valori predefiniti questi attributi base per esempio con nomi e contatti di soggetti oppure unità unità di misura oppure titoli di specifiche come avviene nella sezione relativa alla qualità il terzo obiettivo era quello di compilare i metadati una volta sola e pubblicarli in conformità specifiche diverse e questo avviene configurando sempre da parte dell'utente admin gli end point a cui trasmettere i metadati da pubblicare sia su portali su istanze SICAN come nel caso specifico del comune di Modena che ha un proprio endpoint un proprio portale SICAN sia su cataloghi di metadati geografici tramite servizi CSV in modalità transazionale e nel caso di Modena non avendo un catalogo specifico di metadati geografici questo viene fatto quindi la pubblicazione viene fatta sul geoportale esportando il servizio CSV del geoportale della regione Emilia-Ormania quindi trasmettendo a questo servizio i metadati in formato XML conformi a uno standard ISO 1915 contenenti tutto ciò che è richiesto dalla direttiva Inspire e soprattutto da RNA-IT questo permette all'utente admin appunto di pubblicare sul proprio portale i metadati open per i dati aperti e sul portale e sul servizio CSV di regione Emilia-Romagna la rappresentazione degli stessi metadati però seguendo le specifiche RNA-IT e siamo su questa parte ancora in fase di test quindi questi sono gli ultimi screenshot che rappresentano ciò che vede l'utente della regione Emilia-Romagna nell'ambiente di test e prossimamente passeremo in produzione in modo che i metadati di dati geografici vengano arrestati da parte di Agid e finiscano all'interno del catalogo nazionale cioè RNA-IT grazie 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 per Giorgio grazie Alessandra di questa introduzione questa presentazione della vostra esperienza che come potete vedere è piuttosto diversificata per cui siamo in presenza di amministrazioni che hanno un diverso livello di maturità anche in questo tipo di progettualità siamo andati lunghi con i tempi quindi abbiamo deciso appunto di dedicare lo slot delle domande e risposte a questo intervento del comune di Modena abbiamo anche cercato di rispondere nella chat ma nel caso in cui ci fossero delle domande a cui non abbiamo dato risposta segnaleremo queste risposte all'interno della pagina eventi del webinar e quindi pubblicheremo le risposte successivamente così come pubblicheremo nel primo pomeriggio realisticamente le slide e il video integrale degli interventi e del webinar non mi rimane altro che ringraziare tutti quanti i partecipanti ringraziare gli oratori del webinar e vi do appuntamento alla settimana prossima per il secondo webinar del ciclo sperando di rimanere più contenuti nei tempi ma sappiamo che queste sono tematiche molto importanti e alle quali bisogna dedicare tempo per dare un framework comune per procedere in attuazione delle linee guida quindi di nuovo grazie a tutti un saluto e a presto alla prossima settimana arrivederci